amici sportivi a tutti voi la più cordiale buonasera apriamo con il calcio la lucchese ha ripreso oggi la preparazione possiamo dire che è scattata a tutti gli effetti l'operazione ancona lo 0 a 0 contro il teramo è ormai in archivio nel bene e nel male gli aspetti positivi ed anche quelli negativi emersi sabato scorso nella sfida del porta elisa con gli abruzzesi di vivarini sono ormai alle spalle dopo averli comunque rianalizzati e sviscerati bisogna solo guardare avanti lo sa benissimo anche nano galderisi che ha ritrovato la truppa per la ripresa della preparazione unico assente giustificato il portiere di masi colpito in queste ore da un gravissimo lutto familiare intanto tra le note più positive di questa fase di discreto rilancio vi è senza alcun dubbio daniele ferretti il popolare spruzzino sta dando il suo contributo di capabile applicazione tecnico tattica ed agonistica nonché di prezioso assist man sì forse oggi c'è mancato c'è mancato solo il gol quella cattiveria sottoporta di voler vincere la partita ecco però la cosa positiva è che ci siamo arrivati siamo arrivati anche diverse volte in maniera anche abbastanza pulita quindi penso che abbia fatto una bella prestazione contro una signora squadra perché ricordiamo che il terreno ha 23 punti quindi se è una grande squadra secondo me purtroppo c'è mancato solo il gol oggi le parole del 28 anni attaccante abruzzese ci offrono lo spunto per proiettarci sul prossimo impegno che si chiama ancona trasserta al del conero che chiuderà il programma lunedì 8 dicembre giorno dell'immacolata della sedicesima giornata ci sono ancora parecchi giorni davanti per studiare le giuste soluzioni e come opporsi al meglio alla formazione marchigiana ringalluzzita dalla vittoria di prato sul fronte formazione è chiaro che tutto è ancora prematuro anche se l'esperimento non è laterale basso a sinistra funzionata a dovere ed anche in tale ottica non si prevedono all'orizzonte soverchi e novità vediamo l'arbitro di ancona lucchese il posticipo di lunedì prossimo sarà federico fanton della sezione di lodi gli assistenti marco del borgo e alessio bertasi di verona giornata anche di provvedimenti del giudice sportivo in lega pro squalificati tutti per una giornata magnanelli paolini del san marino caponi del ponte d'era pettarin del forlì loviso del gubbio e fanucchi del prato ammende inoltre di 1500 euro all'aquila e al tutto cuoio la 67esima viareggio cap in programma dal 2 al 16 febbraio accende i motori e annuncia che il sorteggio degli otto gironi avverrà il prossimo 3 gennaio e mentre la presentazione ufficiale sarà fatta il 26 gennaio le sedi dei due eventi saranno annunciate nei prossimi giorni sarà un torneo a 32 squadre senza teste di serie la partita tra la portuale real forte querceta rinviata qualche settimana fa a causa dell'alluvione che colpì la zona di carrara sarà recuperata mercoledì 17 dicembre manca solo l'annuncio ufficiale e l'orario del match che potrebbe disputarsi anche allo stadio dei marmi di carrara per la squadra del presidente alessandro mussi che qui vediamo domenica nell'uno a uno contro il ghibiborgo si apre un periodo molto intenso un autentico tour de force 5 partite in due settimane dal 7 al 21 dicembre attendono i bianco nero azzurri di mister del nero che oltre alle gare di campionato giocheranno mercoledì 10 dicembre anche la semifinale di coppa italia sul campo della cuoio pelli il nuoto iniziano domani i mondiali di nuoto in vasca corta a doha diletta carli la via regina per seppur in non perfette condizioni fisiche ha rischiato tra l'altro di non gareggiare gareggerà invece domattina nella batteria della staffetta 4 per 200 stile libero e nel pomeriggio ci auguriamo anche in finale perché vorrebbe dire che l'italia ha raggiunto la finale venerdì diletta sarà poi impegnata nei 400 stile libero da segnalare che sarà in mondiale anche jessica catteo che rappresenta la tirrenica nuoto ma che abita in versilia e gareggerà giovedì nei 100 stile libero e domenica nei 200 stile libero parliamo di atletica il keniano del gruppo podistico parco alpiaquane william kibor deve accontentarsi del gradino più basso del podio terzo posto alla maratona di firenze preceduto dai connazionali kipsanga e matego kibor ha coperto la distanza in due ore 15 minuti e 20 secondi un tempo superiore a quanto si sperava potesse fare anche perché la gazzella bianco verde accusato nel finale un problema muscolare quando era in compagnia dei primi due il rugby successo esterno del rugby lucca 18 a 12 terza vittoria consecutiva di fila la seconda trasferta sul campo del degli etruschi livorno nella giornata in cui il match di cartello era rappresentato tra la sfida al vertice dalla sfida al vertice tra prato e pisa lucca dunque sfruttato la possibilità di rimanere in scia delle prime due l'inseguimento riprenderà domenica prossima l'acquedotto contro gli arieti arezzo ed ora siamo ai motori un paolo andreucci davvero infinito nel senso che è riuscito a dare spettacolo anche sulla pista dell'autodromo di monza al 14esimo monza rally show ucci ussi i più amati dagli italiani il riscontro lo si è avuto anche al 14esimo monza rally show che per tre giorni animato di spettacolo pur una manifestazione davvero unica nel suo genere paolo andreucci e anna andreussi con la loro peugeot 208 r5 si sono comportati benissimo mettendo in pista in tutti i sensi visto che si gareggiava all'interno del mitico autodromo di monza proverbiale bravura e professionalità alla fine si sono classificati al dodicesimo posto assoluto alle spalle di una parte del folto stuolo di vrc ma mettendone dietro tante altre equipaggio campione italiano rally 2014 che presentava una fiammante livrea tricolore ha vinto la classe r5 precedendo il sempre veloce rossetti da aggiungere che domenica pomeriggio andreucci ha vinto anche la kermess finale suggellata da una prova altamente spettacolare più in generale la vittoria assoluta è andata robert kubica su ford fiesta che ha preceduto il 46 al secolo valentino rossi il pilota polacco e il dottore che aveva le note il via regino carlo cassina hanno dato vita ad un duello entusiasmante sul filo dei secondi insomma un monza rally show che non ha deluso le attese nel tempio della formula 1 si è visto anche il neocampione del mondo lewis hamilton davvero bellissime queste war rally car magari non ne vedremo tantissime anche nel prossimo campionato italiano quello del 2015 di cui possiamo proporvi questa sera un'anticipazione del calendario calendario ancora ufficioso ma che poi a grandi linee probabilmente sarà proprio questo lo vediamo sono otto prove tre su terra e cinque su asfalto sarà ancora una volta il ciocco ad aprire le danze il 22 marzo poi l'11 aprile sanremo il 3 maggio l'adriatico prima prova su terra 24 maggio targa florio 12 luglio san marino 29 agosto friuli 20 settembre l'inedito roma capitale su terra e l'11 ottobre anche il prossimo anno chiuderà il due valli si è svolta presso la sede del tiro assegno nazionale di milano l'annuale cerimonia di premiazione dei migliori tiratori del campionato italiano di carabina ex ordinanza per il secondo anno consecutivo è stato premiato il torre laghese alessandro rossi che dopo aver vinto il titolo di campione italiano nella categoria semi automatica con bersagli posizionati alla distanza di 100 metri è riuscito ad aggiudicarsi il prestigioso titolo di tiratore dell'anno in ben due categorie di tiro ex ordinanza che sono la specialità sniper e la semi automatica chiudiamo con una notizia di basket il campionato di promozione quarta vittoria consecutiva per i gladiatorius che regolano anche l'enda spistoia col punteggio di 62 a 52 nella squadra di coccia alessandro petrini particolare evidenza passaglia e granucci con 12 e 11 punti per i gladiatorius ora ci sono otto giorni di lavoro per preparare la sfida al vertice contro il bottegone e con questo è tutto per quanto riguarda la pagina sportiva di questa sera vi ringrazio per l'ascolto dopo una breve pausa pubblicitaria il tg prosegue con la terza ed ultima parte a tutti voi la più cordiale buonasera